Il corto più corto del mondo. Al festival di cortinametraggio abbiamo presentato un corto che costituisce un vero e proprio regolo, un secondo di durata. Qualcuno ha detto troppo corto, qualcuno ha detto si poteva tagliare e accorciarlo ancora di più. Sta di fatto che per il momento abbiamo presentato solo il trailer. Appena sarà finito il montaggio potremo vedere il corto più corto del mondo, la porta in faccia. Buonasera 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 Buonasera